In questi giorni il SARS-CoV-2, uno dei coronavirus e il responsabile della Covid-19, giusto per chiarire alcune declinazioni dei termini che tuttora vengono utilizzati male, ha cambiato le nostre vite a causa del lockdown e questo inevitabilmente influisce su uno dei temi di questo canale, l'auto. Beh, decreti a raffica e rapidi aggiustamenti dettati dall'emergenza, insomma hanno creato spesso confusione e c'è stato anche un copincolla selvaggio di notizie non preceduto da una lettura attenta del DL. Oggi quindi vi spiego cosa cambia a livello di assicurazione, bollo, revisione e patente. Prima una nota importante, se l'emergenza dovesse essere prorogata potrebbero arrivare ulteriori novità. Per questo su hdmotori.it abbiamo preparato tre articoli che vengono aggiornati di volta in volta con tutte le informazioni, i link li trovate chiaramente in descrizione come al solito. Questa guida vi citerò anche articoli, protocolli, non per riempirmi la bocca di termini tecnici, ma per le opportune verifiche che potrebbero servirvi. Verificate sempre le informazioni che vi vengono date. Attenzione che in alcuni casi si citano articoli precedenti e quindi va fatto una specie di lavoro a ritroso, un collage, in quel simpatico malasma che è il burocratichese. Partiamo con RC auto e moto. L'assicurazione non viene sospesa, come erroneamente qualcuno ha riportato, quindi mettetevi il cuore in pace. Potete sospenderla, chiaramente solo se la vostra polizza già lo prevedeva. Vi faccio l'esempio di alcune assicurazioni moto che permettono di bloccare almeno una volta l'anno la copertura, per esempio nella stagione invernale, e riprenderla in quella estiva. Il DL 18 2020 non fa altro che estendere una normativa introdotta con un precedente decreto, quello del 2005 settembre. Non tutti sanno infatti che scaduta l'assicurazione auto si hanno 15 giorni di tempo per circolare prima di rinnovare la polizza, senza rischiare multe e con la sicurezza di essere coperti in caso di incidente. Il decreto dei giorni scorsi in pratica raddoppia questo periodo cuscinetto a 30 giorni, ma solo per le polizze in scadenza fino al 31 luglio, anche qui un altro errore che molti hanno fatto, e non fino al 30 aprile. Quindi sì, avete 30 giorni gratis, tra virgolette, che possono essere molto utili nell'economia familiare, ma questo vale solo se voi cambiate compagnia rispetto alla precedente. Se infatti restate con la stessa, rinnovando il contratto, la decorrenza è retroattiva. Quindi la polizza scade il 31 marzo e la rinnovate a fine aprile? Il pagamento parte sì dopo, ma i mesi vengono comunque contati a partire dal 31 marzo. Bollo, in questo caso nessuna agevolazione, va comunque pagato in quanto tassa di possesso, non legata all'utilizzo effettivo dell'auto o della moto. Nel link trovate tutte le informazioni per farlo online in pochi click, tra l'altro. Le cose però potrebbero cambiare. Al momento infatti Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno per esempio confermato che i bolli in scadenza dall'8 marzo, oppure dal 23 febbraio, se vi trovavate nella zona rossa originale, fino al 31 maggio, potranno essere pagati fino al 30 giugno, senza costi aggiuntivi. Nessun rimborso per chi invece avesse già provveduto al pagamento del bollo con il sistema automatizzato in Lombardia, ad esempio, oppure a mano. Revisione, in questo caso articolo 91,4, proroga di tre mesi per tutti i veicoli e rimorchi, quindi le auto con scadenza revisione entro il 31 luglio, avranno tempo fino al 31 ottobre per fare la revisione e nel frattempo continuare a circolare. Patente, anche in questo caso ci sarà una specie di cuscinetto. Tutte le patenti in scadenza saranno valide fino al 31 agosto, perché rientrano nell'articolo 104 del decreto legge che specifica in scadenza o scadute successivamente alla data di entrata del decreto, quindi il 17 marzo. Per esami e foglio rosa dobbiamo invece riferirci al protocollo 50, la teoria può svolgersi oltre al normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, vi ricordo, entro il 30 giugno. Fogli rosa, proroga, per quelli in scadenza dall'1 febbraio al 30 aprile, che saranno validi fino al termine di giugno, però serve l'apposita annotazione della motorizzazione, tipo autorizzazione prorogata bla bla bla, i sensi del DD 10 marzo 2020. Questo è tutto per il momento, controllate ogni tanto il sito e i link in descrizione dove troverete eventuali aggiornamenti e novità, perché sì, ci potrebbero essere nuovi decreti con le misure nazionali e addirittura eventuali deroghe regionali.